Il carcinoma prostatico è uno dei principali tumori che colpisce gli uomini nei paesi occidentali. Nel 2022 in Italia 40.500 le nuove diagnosi stimate che rappresentano il 19,8% di tutti i tumori maschili. L'incidenza del carcinoma prostatico è aumentata nel tempo a causa soprattutto dell'invecchiamento della popolazione, storia familiare ma anche per scorretti stili di vita, fumo, obesità. La strategia più efficace resta sicuramente la prevenzione che consente di intercettare il tumore in fase iniziale anche prima della comparsa dei sintomi aumentando così la possibilità di cura e di guarigione. Di carcinoma della prostata se ne è parlato a Salerno in occasione del secondo corso interattivo promosso dal dottore Mattia Carbone. Salerno siamo all'avanguardia per la diagnosi di questo tipo di neoplasia. Questo perché l'azienda ci ha messo a disposizione un'apparchiettura tecnologica di ultimissima generazione, abbiamo una risonanza magnetica a trettezza e abbiamo l'apparecchio ecografico in grado di fare la tecnica fusion per la biopsia, ossia fare una biopsia non più non target, cioè quindi random, ma mirata esattamente sulla lesione che ha identificato la prostata. Avendo questa grande capacità diagnostica che ci ha riconosciuto a livello nazionale, riteniamo che sia giusto che questo tipo di interdiagnostico venga trasmesso nella maniera più corretta possibile. Sono ancora troppe le risonanze magnetiche fatte male e troppe ancora le biopsie fatte con tecnica random, ma anche in maniera superficiale i studi improvvisati. Il tumore della prostata è un tumore molto importante, ha una grandissima incidenza, va affrontato con serietà e oggi la tecnologia ce lo consente. Non è nemmeno particolarmente difficile, l'importante è seguire delle linee guida generali e questo si può fare solo attraverso la formazione e i corsi. Qui sono presenti le maggiori eccellenti nazionali, quest'oggi a Salerno, io ne sono orgoglioso e fiero. Abbiamo la professoressa Paribianco che è il massimo esperto nazionale dell'Università Sapienza di Roma, il professore Cardone del San Raffaele di Milano, il professore Brunese, il magnifico rettore dell'Università del Molise, il professore Minervini del Careggio di Firenze, il professore Dente dell'Università di Ancona. Insomma abbiamo le eccellenze nazionali sia dal punto di vista urologico, sia dal punto di vista radiologico, sia dal punto di vista naturopatologico con il primario dell'ospedale del mare, il dottore D'Antonio e la dottoressa adesso che è un'eccellenza dell'Az del Salerno. Pertanto ci sentiamo in una situazione di massima competitività e possiamo dare sicuramente, sia naturalmente per la formazione, i criteri giusti per affrontare il problema ma poi chiaramente questo avrà un effetto positivo sulla popolazione. E in un momento di grande difficoltà della sanità sia a livello regionale che a livello nazionale questo è per me un importante compito e missione di quando uno acquisisce una competenza ed è giusto che la trasmetti in una maniera più corretta possibile. Una diagnostica per immagine al top presso l'azienda ospedaliera universitaria di Salerno, dottore Carbone. Ma dal punto di vista della diagnostica per immagini possiamo dire che a Salerno siamo sicuramente un'eccellenza e c'è riconosciuto a livello nazionale. Non ci fermiamo perché nonostante abbiamo raggiunto la risonanza magnetica multiparapeutica 3 Tesla e la biopsia con tecnica Fusion, il nostro scope, la nostra ulteriore intenzione è di implementare ulteriormente la precisione di agnosi con l'intelligenza artificiale e prossimamente aggiungeremo questo ulteriore step per avere una diagnosi ancora più precisa. Professore Brunese, il carcinoma della prostata purtroppo è in netto aumento, però non sempre dobbiamo essere pessimisti, è così? È un aumento relativo. La motivazione è che, poiché si diceva una volta che c'era la regola del 70, il 70% degli uomini dopo i 70 anni ha cellule neoplastiche nella prostata, poiché l'età media della popolazione è molto aumentata, di conseguenza sono aumentati i soggetti portatori. Se pensiamo che in Europa al 2050 avremo un aumento del 10% della popolazione oltre gli 80 anni, ci rendiamo conto che questo problema sarà naturalmente sempre più vissuto. Quali sono le novità di oggi? Che non tutti questi pazienti hanno necessità di essere trattati. Va capito il livello della patologia e quindi capire se è necessario intervenire con la radioterapia, chirurgicamente oppure no. Il corso di oggi serve a questo, serve a capire nell'ambito delle lesioni focali della prostata quali necessitano di un trattamento e quali invece possono essere controllati, quali quadri più che quali lesioni. Quindi abbiamo dei quadri di assoluta benignità e una progressione di quadri che evolve verso la malignità fino ad arrivare ai gradi più alti che sono quelli che necessitano del trattamento. C'è una grande preoccupazione legata al fatto che il test per preoccuparsi, diciamo così, è facile, è l'esame del PSA. Ma il PSA è un esame legato non obbligatoriamente alla presenza del solo tumore, piuttosto alle dimensioni dell'organo. Perché con l'andare degli anni la prostata aumenta le dimensioni? Ecco perché tanti hanno l'aumento del PSA. Si rivolgono all'equip che per esempio in questa sede a Salerno studia questa malattia e alla fine lui esce con una risposta. Questa è la cosa più bella. Cioè sa se deve andare a fare un trattamento oppure se invece può semplicemente fare dei controlli perché la sua prostata è solo ingrandita ma non c'è nessun problema neoplastico. La risonanza magnetica rappresenta una vera rivoluzione nella gestione del tumore della prostata e infatti in prima linea in tutte le linee guida sia degli urologi che degli oncologi e radiologi. È molto importante laddove viene inserita una nuova metodica come la risonanza magnetica della prostata dopo vari anni vedere l'effetto di standardizzazione sia nelle indicazioni cliniche ma soprattutto anche nel modo di acquisire l'esame e quindi di refertarlo. In altre parole è importante che tutti parlino la stessa lingua. Nel mondo parliamo inglese, in radiologia e in particolare per il tumore della prostata parliamo in termini di pirates e quindi di linee guida che regolano in pratica l'acquisizione e la refertazione della risonanza della prostata. Questo è importante perché la diffusione della metodica da un lato, la standardizzazione da un l'altro ha permesso l'utilizzo della risonanza magnetica sia per la diagnosi primaria sia poi per la stadiazione quindi per dare delle informazioni al chirurgo laddove per esempio c'è un'indicazione a un intervento di nerve sparing cioè per il risparmio del fascio lovascolo nervoso che è quel fascio diciamo che regola la potenza sessuale. Il sistema robotico Da Vinci è ormai il gold standard, è in grado di affrontare ogni tipo di tumore ma nei casi più complessi è fondamentale una valutazione multidisciplinare avvalendosi delle figure dell'oncologo e del radioterapista. Ormai oggigiorno la chirurgia robotica è il gold standard e ci permette di fare interventi anche molto avanzati e radicali ma ci vuole anche l'aiuto del radioterapista e dell'oncologo. Professore Vinervini ma nei casi di tumore avanzato della prostata qual è il ruolo della terapia medica? Ci sono dei trial recenti che hanno dimostrato come esistano delle molecole che si possono somministrare prima dell'intervento chirurgico. Queste terapie si chiamano terapie neodiuvanti, non esistevano nel tumore della prostata, oggi esistono, sono dei farmaci che vengono somministrati per un periodo limitato di tempo, sei mesi e che determinano quindi una riduzione del volume del tumore che rende possibile successivamente l'intervento chirurgico. All'azienda ospedaliera universitaria Careggi dove io lavoro abbiamo in corso una serie di questi trial proprio per far fronte a questi casi molto gravi ed avanzati. All'evento del dottore Mattia Carbone era presente anche l'urologo Donato Dente che ha ribadito l'importanza della tecnologia che consente di intervenire con degli strumenti piccolissimi permettendo di avere una chirurgia molto fine. Con un risparmio stressato di tutta quella che è la struttura anatomica deputata alla continenza e ovomai oncologicamente corretti la possibilità di andare a risparmiare tutto quello che è il fascio vascolo nervoso per i prostatico perché ovviamente la malattia prostatica colpisce sempre più persone giovani e quindi ovviamente oltre che alla continenza anche la potenza sessuale può essere un qualcosa importante da dover mantenere dopo la chirurgia. Grazie per la visione!